Sì Presidente, visto che le dichiarazioni di Zingaretti sono di oggi, dove per la seconda volta, la prima volta il 10 gennaio e oggi per la seconda volta dichiara che Roma necessita di una discarica, è urgente e anche tempestivo trattare oggi questa mozione, perciò per noi non è rinviabile.